Il commissariato di Fano ha indetto una conferenza stampa nel pomeriggio di oggi per annunciare alcuni dettagli di un'importante operazione che ha portato all'arresto di vari componenti di una banda, di extracomunitari per furto di abbigliamento e oggetti. Il fatto nasce da una pregressa attività che il commissariato di Fano, in collaborazione con la squadra mobile e con la questura di Pesaro, ha attivato in merito a un'attività da parte di persone che in qualche maniera proprietari, chiamiamoli così prestanome sostanzialmente, sono intestatari di molti veicoli. E praticamente questi veicoli vengono poi utilizzati per l'effettuazione di reati prevalentemente di natura predatoria. Quindi a seguito di questo monitoraggio in territorio del comune di Fano si nota la presenza di uno di questi veicoli che erano stati attenzionati, questa targa. E praticamente da lì si parte un'attività di ricerca e di controllo degli occupanti che nasce a Fano e termina a seguito di un inseguimento quasi alle porte di Pesaro. Qual è stata la rifurtiva ritrovata? La rifurtiva è di vario genere che è stata ritrovata in parte presso l'autovettura e in parte presso un residence a Rimini dove le persone utilizzavano come base logistica, seppur provenienti dal milanese, dove appunto all'interno sia del veicolo che delle residence sono state trovate materiale di vario genere, dagli occhiali, borse, jeans, polo, magliette. Insomma, però la particolarità è che sono tutte griff di pregio e quindi dal valore molto ingente. Una caratteristica molto importante è quella all'interno della borsa per l'antitaccheggio. Sì esatto, in pratica utilizzavano uno stratagemma che riusciva a deludere i dispositivi antitaccheggio perché in pratica mettendola all'interno di borse schermate faceva sì che all'atto del passaggio nei dispositivi il dispositivo non funzionasse. In più, in pratica, quando loro, nel caso dei furti di occhiali, occhiali delle marche appunto più prestigiose, per evitare anche di generare sospetti, sostituivano gli occhiali più prestigiosi con occhiali di minor valore proprio per non far vedere anche il colpo d'occhio della mancanza. Quali sono i reati che i soggetti dovranno rispondere? Per entrambi la ricettazione. Un peruviano di 55 anni è stato sottoposto a fermo. La complice giovane, stato interessante, è stata denunciata. Abbiamo un terzo elemento che è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ma abbiamo i dati quindi riusciremo anche per lui a fare il seguito. Diciamo, ecco.